Amici sportivi appassionati di grande basket femminile, buonasera, ben trovati al Parasport Elisa. Ultime tre partite, l'unica che ha perso è quella con la Virtus. E si parte con la palla due, salta Rorella Kubai, ma viene a Venezia con Lisa Bercani che fa uno step back per il tiro da tre, ecco, se è difficile lei lo mette. Tutto quello che deve fare a pazienza riesce a trovare qui. Bercani, solita stritta fuori dagli schemi. Esatto. Poi parte addirittura lei in palleggio, va a attaccare su Dixon, l'appoggio per Kujer, allarga le braccia adesso. Mette di non trovare appunto la difesa schierata molto bene e consapevole della forza difensiva dell'Umana. Sibianovic l'ha stoppata da parte. Si contrawalk Kujer, è sempre un terno all'otto mentre Bercani pesca l'assist per Cepard, canestro più fallo di Brosman. La sua volta sfrutta il blocco della numero 32 e si alza dalla media. Frustata di polso di Martina Villa. Primo tiro della sua partita. La sua volta sfrutta il blocco della numero 32 e si alza dalla media. Frustata di polso di Martina Villa. Primo tiro della sua partita. Tra l'Orella Kubai per l'Umana Rayer. Immagino a questo punto per Jessica Sheppard, la tripla di Lisa Bercani. Diciamo che questa sera, se togliamo Lisa Bercani, per la controtransizione dell'Umana Rayer, Mattiega a proteggere il fitturato, la formazione fa il fila. Gran lettura qui. Tutto a campo e infatti arriva il recupero da parte di Bercani, l'assiste e il canestro di Ania, Macura, Torso, che è di Esina. Si bene gli spazi da parte di Faenza. Macura te libera, si prende la tripla. La mette! Diciamo che questo sotto canestro protegge con una zona, Villa, la sospensione dalla media. Sfruttato ultimamente. Quattro punti segnati in più di tre minuti e c'è Sheppard pronta a rientrare per l'Umana Rayer, mentre Kujer, mortissimo. Vianovic che va a attaccare Kubai, penetra, scarica, ma nelle mani di Jessica Sheppard che batte tagliamento, chiedeva il fallo tagliamento, non gli viene fiscato. Jessica Sheppard, della Serie 1, alla fine porta a casa, possiamo dire, il risultato, anche perché arriva un altro possesso, arriva il tiro sbagliato, il rimbalzo di Nicolodi e Bercani finge l'autocanestro. Dunque il punteggio finale sarà Umana Rayer Venezia.